Senti un po' Nestor, come gioca il tuo papà? Male. Male perché? Perché sì. Contrariamente a quanto pensava suo figlio, Enrique Omar Sivori è uno dei più grandi calciatori del secolo. Un genio selvaggio e perverso, rissoso e raffinato. Sivori è un vizio, ripeteva sempre Gianni Agnelli. Un vizio che fa delirare le folle e usa i suoi ricami per beffare gli avversari. Come in questa azione. Stoppa la palla. La difende. Finge di allungarsela. La recupera all'ultimo istante. Poi rapidamente si gira e salta i due difensori che ha addosso. Ma è troppo facile. Si ferma, riporta indietro il pallone per divertirsi ancora un po'. La unica maniera di far divertire a quelli 60, 70, 80 mila spettatori che vanno a vedere le partite di calcio è se uno si diverte. Perché se no si diverte uno, difficilmente riesca a far divertire gli spettatori. Sivori inizia a giocare a calcio nella sua città, San Nicolás, in Argentina. Il nome e la sede della società è il Teatro Municipale. A quasi 90 anni il presidente di quella squadra, che con grande fiuto aveva già intuito le doti del futuro campione. Da bambino giocava in un torneo di calcio. E già era la figura. Ma il vero spettacolo era come toccava il pallone. Era un fenomeno. Il cicchino, il piccolino, come lo chiamano ancora a San Nicolás, passa presto al River Plate e in poco tempo diventa titolare. Nel 1957 Sivori viene in Italia. Lo acquista la Juventus per 180 milioni. È una cifra record con cui il club argentino costruisce un anello dello stadio. Il mio desiderio di andare a giocare nella vecchia signora era veramente molto. A Torino, durante la presentazione, Sivori manda in delirio i tifosi bianconeri facendo quattro giri di campo in palleggio senza fare mai cadere la palla. La sua Juve, che è anche la Juve di Boniperti e Charles, vince tre scudetti in quattro anni. Ma in campo Sivori non è solo bravo, è anche irascibile e indisciplinato. Insieme ai gol e alle vittorie, colleziona bene 33 turni di squalifica, con una media di 7 a stagione. Sivori è stato un grandissimo giocatore, è un grandissimo... finitela voi la frase. È la disperazione degli arbitri. Spesso diventa una furia e l'unico che riesce a calmarlo senza rischiare la pelle è John Charles. Pensavo in quel momento di essere stato spulso ingiustamente, volevo prendermi con l'arbitro e John è venuto proprio a calmarmi e mi ha dato un schiaffo in faccia. Da Charles, ma Sarti devia il Boniper. Riprende Sivori, gol! 3 a 1 per la Juve. L'ultimo scudetto che i due campioni vincono insieme è nella stagione 60-61 e la grande rivale è l'Inter. Alla ventottesima giornata di campionato, a Torino, c'è lo scontro tra le due squadre. Mezz'ora prima del fischio d'inizio, esauriti i biglietti, un gruppo di tifosi abbatte i cancelli e invade il campo. All'Inter viene data la vittoria d'ufficio. La Juventus ricorre in appello e il verdetto cambia. Si deve rigiocare. Per protesta l'Inter manda in campo la sua squadra primavera. È l'esordio di Sandro Mazzola e l'ultima partita bianconera di Gian Piero Boniperti. C'era un mio compagno che doveva marcare Sivori, che non dormì per tutta la settimana. Prima di entrare in campo, Peppino Meazzo diceva, ragazzi voi fate la vostra partita. Non c'è niente, nessun... Chiaro che loro sono dei campioni e voi cercate di far vedere qualcosa. Sivori non aveva nessuna voglia di giocarla questa partita, vedeva sti sbarbati. All'inizio stava lì in un angolo. Allora questo mio compagno, che era un mediano, uno molto muscolare, che sento ancora adesso ogni tanto, mi passava vicino, Toscano era, sto fermando Sivori al mio paese e mi dicono, mamma mia, non la tocca. Ma a un certo punto i compagni hanno cominciato a dire a Sivori, ma no, ma caro, insomma, questo per fare un favore sei pappine. Soltanto Silvio Piola aveva segnato sei gol in una partita di campionato. Le fece in tutte le salse, non riuscivamo più a capire dove era, mio compagno non voleva tornare al paese. Dopo quel mitico scudetto la Juventus comincia a perdere i suoi campioni. Boni Perti si ritira e Charles torna in Inghilterra. Non si vince più. Ma Sivori non tradisce la vecchia signora, finché non arriva l'allenatore paraguaiano Eriberto Herrera, che non sopporta il suo carattere vivelle. E a lui le manca una reeducazione totale, perché lui mai ha chiocato con un compito chiaro per una squadra. Io ho parlato con Eriberto Herrera dopo molti anni, ci sono chiariti qualche cosa che non racconterò mai, ma io penso che più che altro il mio ciclo nella Juventus era finito. Dopo la Juventus Sivori va a Napoli, dove trova José Altafini, anche lui in l'accogliani. I due si intendono subito a meraviglia e diventano compagni di scorribande nelle aree avversarie e di disboccia fuori dal campo. Sivori è molto preoccupato, insomma noi siamo venuti qui, la squadra che viene dalla B, una squadra che non ha esperienza, invece abbiamo fatto un campionato strepitoso. Le gambe di Sivori sono preziose, ognuna costa svariate decine di milioni e vanno massaggiate con ogni cura. Per ammirarle al lavoro si calcola che i napoletani abbiano già speso un miliardo. Senti Pommiri, ma ti piace come gioca il calcio papà? Sì. Ma l'hai mai visto? Solo una volta, anche certe volte per televisione. E come facevi però a riconoscerlo fra tutti quelli che giocavano? Perché c'è le calze giugno. Eh sì, era ben riconoscibile in campo Sivori. Solo a lui era permesso di portare i calzettoni abbassati fino alle caviglie. Quello è stato una mia abitudine da sempre. Pensavo anche che mi portava fortuna. E poi a un certo punto l'ho preso anche come un fatto psicologico. L'ho inventato tutto io, no? Era una cosa che a me sembrava che fosse così. Pensavo che l'avversario avesse, diciamo, più riguardo nei confronti di una gamba nuda. Pensavo che se mi avrebbero picchiato di meno. Il primo dicembre 1968, al San Paolo di Napoli, si gioca un incandescente Napoli-Juventus. Sivori è combattuto. La Juve è sempre la squadra del suo cuore, ma a guidarla c'è ancora il suo nemico, Eriberto Herrera. Eriberto Herrera mi preparò la partita proprio per giocare su Sivori. Lui diceva, lei le deve stare molto vicino, le morsiche la caviglia, le raccomando e le faccia tanta forza che lui ha paura. Al sedicesimo minuto il punteggio è 1-0 per la squadra partenotea. Il bianco-nero Favalli ostacola Sivori come può. Sono riuscito a girarmi per prima, a prendere la palla e poi con calma a darla indietro al portiere, a Dolini. Lui mi fece lo sgambetto, come fece lo sgambetto, perso l'equilibrio e mi buttai per terra. Appena, appena, appena lui mi ha toccato, io ho accentuato un pochino la caduta e l'arbitro lo calciò subito nei spogliatoi. E lì è cominciato che lui dopo voleva un po' vendicarsi mentre io ero per terra, ma poi c'era del sole e c'era Castano che lo trattenevano un po' per le braccia perché lui cominciava con Sivori si prende sei turni di squalifica. Qualche giorno dopo convoca i giornalisti e comunica la sua decisione, si ritira. Nonostante i napoletani portino la sua statua in processione come fosse San Gennaro, Sivori abbandona il Napoli, il calcio e l'Italia. Torna in Argentina, nella sua terra, a San Nicolás, la città dove è nato. Oggi Sivori è l'osservatore della Juventus in Sud America e proprio la Juventus è il nome della sua fazenda. E lì, dall'altra parte dell'oceano, a 200 chilometri da Buenos Aires, in mezzo a tori, mucche e cavalli, ha raccolto i trofei della sua squadra prediletta e degli anni più belli della sua vita. Grazie. 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 Grazie.